Abbiamo un'attesa enorme e noi saremo molto contenti che il Papa potesse avere un incontro con questa gioventù, la gioventù esclusa, la più esclusa, quella che non ha visibilità, che va nelle cracolandi e va soprattutto nell'arco traffico per contare, per avere valore, per essere visibile. Quindi noi desideriamo molto che il Santo Padre, che ama i giovani, che ha cuore aperto, che avesse un incontro con loro e noi sogniamo che i ragazzi della Casa Domenoa, che rappresentano questa fetta di gioventù, di adolescenti non amati, esclusi, potessero dare un abbraccio al Papa. Quando il Papa è venuto in Brasile già nel 2007, alla Fazenda di Speranza incontrò dei bambini, fu un momento che ancora adesso viene ricordato con gioia e emozioni in tutto il Brasile. Io avevo dato questa idea a Freianze, avevo detto guarda fate il Papa incontrarsi con i bambini e che loro arrivino a lui e lo abbraccino e questa è stata l'immagine che ha fatto bene anche al Santo Padre. Sogniamo che i nostri ragazzi possano dargli un abbraccio, o nella messa, o quando lui arriva, solo un abbraccio. Il genro rosso di Loppiano, del momento di focolare, e loro vogliono preparare lo spettacolo con i giovani esclusi. E allora stanno cercando i ragazzi di strada, i giovani della Casa Domenore, della Fazenda di Speranza e i giovani che sono nel carcere. E vorrebbero fare lo spettacolo con 200 di loro e 40 dovrebbero essere della Casa Domenore. Stiamo già preparandoci e sono contenti, si sentono gratificati, onorati per poter fare lo spettacolo al Papa. Gesù andrebbe da loro, lui che cerca gli esclusi. E noi, umilmente, che siamo Casa Domenore, quindi dei piccoli, saremo tanto contenti sia per il Papa sia per i nostri ragazzi. Sono sicuro che questo darebbe un'immagine molto bella al Santo Padre. Quando si vede il Santo Padre che abbraccia, che è abbracciato, questo emoziona tutto il mondo.